Una discarica abusiva di rifiuti speciali, olisausti, scarti di plastica e gomma e rifiuti solidi urbani per un peso complessivo di 300 tonnellate, nonché 25 otto vetture sprovviste di autorizzazioni, sono state trovate all'interno dell'area gestita dal circolo culturale di Bolgaro Torinese. È stato inoltre accertato che i titolari alimentavano la propria attività mediante l'allaccio abusivo dell'elettrica. L'intero immobile è stato sottoposto a sequestro, il controllo è avvenuto nei giorni scorsi. I carabinieri della stazione di Caselle Torinese hanno denunciato il presidente e il gestore del circolo per attività di gestione di rifiuti non autorizzati e furto continuato di energia elettrica. Entrambi inoltre sono stati sanzionati per non aver sospeso l'attività durante l'emergenza coronavirus. Contestualmente in un altro circolo culturale di Caselle Torinese, i carabinieri hanno multato il gestore e il presidente per non aver sospeso l'attività durante il periodo di emergenza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.